ciao a tutti allora in realtà questo è il primo video in cui mi vedrete parlare così davanti alla telecamera ed è anche quello del telefono quindi abbiate pietate la qualità è pessima però mi rendo conto che devo farlo perché è un po' di tempo che voi non mi vedete a parte per la reaction di BTS ma quello andava fatta allora devo scusarmi con tutti voi se sono mancata tanto tempo non ho fatto delle reaction e cose varie nel senso le ho fatte ma non le ho montate e quindi nel senso mi sento in colpa perché le ho lì pronte ma le devo ancora montare quindi abbiate pietà di me ma ne ho tante però devo scusarmi perché sono sparita sono stati dei mesi molto molto pieni di cose ci sono tante cose in cantiere tante cose che vi dovrei spiegare e raccontare e nulla sono stati due mesi veramente difficili nel senso che ho fatto veramente tante tante cose sono partita, sono andata a vedere Monsta X e vi racconterò anche questo in un altro video perché è stata un'esperienza bellissima ho tante cose da raccontare al riguardo e sono abbastanza sicura che potrebbero interessarvi ho dovuto organizzare delle cose riguardando il K-pop perché spoiler organizzo eventi K-pop in ben due regioni dell'Italia quindi è stato un attimo vi dico da adesso che ci saranno nuovi contenuti nel senso che alla fine non farò più solo reaction ma tante cose riguardanti il K-pop, la Corea cose del genere che se fossero interessarvi e che mi sono capitate adesso quindi non so, penso che vi farà piacere vederle e viverle con me e al contempo ho pensato che magari potrò parlarvi un po' di più di me in realtà è in cantiere un video che io ho girato tanto tempo fa ma mi vergogno un sacco a parlare mi sento stupida a parlare da sola che devo postare dove ho deciso di presentare il canale infatti mi vedete con i capelli arancioni come li avevo allora e capirete da soli che è tantissimo tempo che io ho quel video pronto ma mi vergogno però visto che adesso devo fare questo video, sono costretta lo metterò e niente, insieme a quello avvierò altri video in cui vi parlerò di cose, concerti esperienze con i coreani, viaggi, tutte queste cose che riguardano loro insomma, non sono i nostri ex però guardate quanto è bello io voglio e niente, quindi capite che è un pochino drammatica adesso sono tornata a casa dalla mia famiglia sarò dei giorni qui, io fino al 30 sarò off limits e ho deciso di fare un piccolo video ecco, mio padre mi è venuto anche a prendere perché devo uscire e quindi niente, mi scuso con voi per tutto questo giuro che ci vedremo prestissimo con tantissime cose tantissime cose da dire, tantissime reaction tantissime novità e niente grazie a tutti e scusate grazie per la pazienza ciao ciao Ciao!